Dopo l'audizione in commissione del dirigente del settore ambiente Gianmarco Saba, rimane critica la posizione della MonutenCop. Mentre è stato confermato lo sciopero di ripendenti giovedì 7 luglio, i componenti della commissione ambientale si riuniranno mercoledì 2 e venerdì 4 luglio per trovare soluzioni ai problemi di varianatura che gravano sulla società. Per questi incontri il presidente della quinta commissione, Francesco Carboni, ha convocato oltre ai consiglieri comunali l'assessore con delega Ligiene Gianni Spano ed il dirigente Saba, prevista ma non ancora confermata la presenza di un dirigente della MonutenCop.